Siamo in zona lungomare di Taranto, dopo essere scesi, dopo essere entrati dalla zona ex Kral dopo lavoro Amiu, vedete qui cosa si staglia alla nostra vista, un immondezzaio pubblico, guardate, strutture completamente fatiscenti, abbandonate, ma questo non sarebbe nulla se non considerassimo qui questi ammassi di rifiuti. Vi stiamo facendo vedere anche il gran ballo dei topi, i topi tranquillamente scorazzano proprio perché le condizioni di assoluta invivibilità, di sporcizia, qui ci sarebbe solamente da chiudere, da serrare l'aria, da bonificarla perché non è possibile davvero che a pochi metri dal mare, laddove le persone vanno a farsi il bagno, si possa vivere, possano sussistere delle condizioni del genere, ripeto, i topi che scorazzano, i sacchetti dell'immondizia. Ditemi voi, non voglio essere ripetitivo, se queste non sono condizioni da terzo mondo. Se questa è Taranto e questa è una città turistica e queste immagini non le stiamo certamente inventando, valutate voi, giudicate voi e poi domandiamoci perché Taranto sta agli ultimi posti della vivibilità. Guardate qui, guardate i cassonetti, è un porcile, un immondezzaio pubblico che rappresenta proprio il luogo ideale, l'humus ideale per i topi, per ratti, per ogni genere di animali. Vedete, basta toccare un po' e vedete i topi che fuoriescono e scorazzano. Non ci sono parole, guardate, la gente dice giustamente fate vedere lo schifo che sta perché la gente paga le tasse, vuole servizi, vuole vivere. Guardate un po', ma che cos'è un paese del terzo mondo? Neanche i paesi in via di sviluppo, proprio quelli che non hanno possibilità di sviluppo. Guardate il contrasto atrucce tra un mare meraviglioso, guardate, una scogliera, la gente che scende per prendere un po' di sole, per farsi un tuffo in acqua e a pochi metri si ritrova in un luogo che, ecco, guardate il topo lì, guardatelo, ecco, prego il nostro amico, guardatelo lì come sta scappando, lo guardate? Lo state vedendo? Guardate, non dico chiacchiere. Questa, ecco, guardate il topo, è salito sul gradino, sul marciapiede, è scorazza. Ecco, io inviterei qui la giunta a fare una passeggiata, a fare un'escursione. Massimo, che ne dici? Massimo Battista, consigliere comunale di Taran, dicevamo, provocatoriamente si potrebbe tenere qui una seduta di giunta, per capire. Queste aree le conosciamo abbastanza bene, come ho detto prima, noi giriamo in lungo e largo la città, se giriamo le immagini, ricordo qui, quando Stefano faceva qui, qui c'erano tantissimi anziani che venivano a fare ginnastica, il solarium, furono piazzati anche all'ombrello, è una situazione pietosa, gravosa e pericolosa. Allora, dalle immagini che hai fatto vedere è veramente qualcosa di scandaloso. Il problema, come diciamo sempre Luigi, purtroppo questi non girano la cittadità, questi non hanno capito che c'è gente che non ha le possibilità e purtroppo questi continuano a pensare. Però se non girano, ora lo sanno e quindi ora non possono fingere di non sapere. Luigi, questo lo sanno già, qui sfido chiunque, qua ogni giorno un bambino si fa male, qui il problema è che manca proprio il controllo, il controllo, qui noi come tu hai, vedi là, è uscito un altro adesso in questo momento. I topi minuti per minuti. Ma questi non sono tubi, se tu vedi sono proprio enormi. Gatti, sì. Allora il problema è che se qualcuno sta aspettando che accada qualcosa è... Qui ci sono le condizioni ideali. Certo, certo. Bene, caro Melucci, questa è la taranto da te amministrata, questa è la taranto da te amministrata, con i topi e quant'altro. L'amministri tu, non l'amministra lo Spirito Santo. Allora, grazie. Allora.